300 persone segnalate per 107 casi sono state proposte da attivate misure di vigilanza a favore della vittima con 50 persone tratte in arresto, in pratica una ogni tre giorni, oltre ad 89 provvedimenti cautelari personali di allontanamento dalla casa familiare o di vieto di avvicinamento alla persona offesa. Un fenomeno dunque in costante aumento così come quello legato alle truffe agli anziani con tre persone arrestate ed 11 denunciate. Una presenza costante sul territorio per garantire ordine e sicurezza ai cittadini a rispondere così alle quasi 300 chiamate giornaliere con l'intervento dei carabinieri della compagnia di Salerno distribuiti tra due reparti territoriali, otto compagnie, tre tenenze e 91 stazioni. Un anno di interventi continui così come evidenziano i numeri di questi primi mesi del 2024. 161 persone denunciate per furto di cui 24 in stato di arresto e 34 per rapina, 13 quelle tratte in arresto solo per citarne alcune ed un costante lavoro per combattere poi il fenomeno relativo allo spaccio di sostanze stupefacenti dal nord al sud del territorio provinciale. 108 persone denunciate, 41 arrestate, quantitativi di droga sequestrati e poi l'attività dei vari nuclei tra questi NAS, carabinieri forestali, del lavoro impegnati in attività legate alla propria competenza istituzionale in materia di tutela sanitaria ed alimentare, ambientale, lavoro, politiche agricole e forestali con sequestri complessivi per circa 7 milioni di euro e poi controlli legati alle violazioni al codice della strada.